salve a tutti amici e amiche sulla mia testa oggi che sono pugliese c'è il delirio vi faccio vedere ma questo pomeriggio inizia il g7 quindi vi mostro in tempo reale che tipo di traffico aereo c'è sulla mia testa nel frattempo vi parlo anche di alcuni aggiornamenti di notizie internazionali visto che nei media italiani se ne parla solo per trafiletti e sono tutti presi dal post elezioni europee come sempre prima di iniziare vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale queste due cose sono fondamentali per l'algoritmo di youtube che ultimamente sta facendo di tutto per remarmi contro quindi se volete aiutarmi questo è il modo qualche giorno fa ho pubblicato un aggiornamento sulla situazione in ucraina riportando la distruzione di un suo 57 al suolo oggi ci sono degli sviluppi su questa notizia quindi andiamo a vederla nel dettaglio altre notizie parlano di attacchi condotti contro le difese missilistiche russe e di altri aerei perduti nella notte di oggi kiev è stata attaccata da droni e missili russi le difese della capitale sono entrate in azione alle 4 e 38 l'allarme è cessato e non si segnalano danni stamattina putin ha incontrato i suoi vertici militari per essere aggiornato sulla situazione quindi nelle prossime ore forse ci sarà una dichiarazione quindi vediamo cosa succede forse anche in virtù del g7 in puglia c'è da segnalare poi la presenza delle navi russe a cuba e quindi benvenuti oggi è il 14 ottobre 1962 scherzi a parte per quanto riguarda le perdite aeree ieri dal ministero della difesa russa è stata riportata la perdita di un su 34 e del suo equipaggio a causa di una avaria in fase di atterraggio durante una missione di addestramento questo bombardiere è sviluppato partendo dalla cellula del su 27 viene ampiamente utilizzato per il lancio delle bombe plananti in ucraina prima dell'inizio delle ostilità la russia disponeva di 135 di questi aeroplani in due anni di guerra una ventina di questi aerei sono andati perduti principalmente a causa del fuoco da terra colpiti da mempads i missili spalleggiabili in molti casi da fuoco amico o durante gli attacchi con droni mentre erano al suolo questi numeri che ho riportato sono quelli accreditati cioè che hanno delle corrispondenze con gli equipaggi catturati o che si sono eiettati o i relitti che si sono trova stati trovati al suolo la fonte di questi dati è una pagina di wikipedia che viene aggiornata con criterio e che riporta le perdite da entrambe le parti vi passo il link in descrizione così chi mi accusa di essere antirusso se ne fa una ragione sono arrivate poi immagini migliori dell'attacco con droni che ha colpito il su 57 di cui parlavo nel precedente video allora questo attacco è stato condotto con 2 barra 3 droni che sono passati tranquillamente oltre difese della base la stampa russa ha cercato di minimizzare l'accaduto mostrando un'immagine di su 57 vecchia di due anni che era intatto ovviamente dicendo che nessuno degli aerei è stato colpito tuttavia queste immagini parlano chiaro con la sezione frontale e l'abitacolo visibilmente danneggiata e stiamo parlando di un aereo realizzato in materiali compositi quindi non è proprio un aereo che si ripara facendo delle toppe ci vorranno mesi per recuperarlo se mai sarà possibile recuperarlo ora la cosa più interessante di questa notizia è che il principale canale di divulgazione pro russia ha dichiarato che 2 su 57 sono stati colpiti in questo attacco uno ha riportato danni gravi tali da renderlo inutilizzabile l'altro invece ha subito danni minori a giudicare da questa immagine e guardando la direzione in cui si propaga l'esplosione del drone secondo me il secondo aeroplano di cui parlano è questo che ha evidentemente incassato delle schegge questa notizia è stata anche confermata da un ex pilota lusso in pensione che riporta di un su 57 danneggiato seriamente e l'altro che ha riportato danni minori lo stesso pilota ha espresso grandi perplessità sul fatto che le difese della base non si sono attivate per niente e che tutti e tre i droni sono riusciti a colpire anche se in questa immagine vediamo gli effetti solo di due di questi quindi non si sa dove è esploso il terzo e che l'unica reazione di difesa della base sono stati i soldati che se ne sono accorti e hanno imbracciato i fucili all'ultimo momento e che successivamente sono stati visti raccogliere i bossoli da terra questo è piuttosto verosimile nel senso questi oggetti metallici se ingeriti dai motori possono rappresentare un grosso problema una delle cose che mi avete fatto notare nei commenti al video precedente è che a quanto pare i russi non proteggono i loro aeroplani soprattutto questi che diciamo andrebbero custoditi in shelter corazzati quantomeno e voglio dire in occidente questa è una procedura normale soprattutto per gli aerei di alto profilo o quelli che devono essere pronti al decollo vi mostro per esempio un paio di nostre basi questa è brindisi che oltre a essere un aeroporto civile è anche una base nato che nasconde sempre molto scrupolosamente i suoi segreti così gioia del colle oddio in queste immagini ho pizzicato per caso 4 griffen svedesi in visita alla base ma in generale aerei in giro non ce ne sono o sono molto pochi sulle basi occidentali ma potete divertirvi voi stessi andando a cercare per esempio aviano strana pratica di mare eccetera eccetera il fatto che in occidente si proteggono gli aeroplani negli shelter in tempo di pace e in russia non lo facciano neanche in tempo di guerra insomma è abbastanza significativo inoltre nascondere gli aeroplani negli shelter non solo serve a proteggerli ma anche a tutelarsi da occhi indiscreti nelle immagini che vediamo di questi su 57 se fate caso poi ci sono delle reti metalliche queste sono delle protezioni improvvisate antidrone che evidentemente funzionano molto relativamente ora un fatto curioso è che proprio sui blog filorussi è pieno di gente che si è arrabbiata un sacco per quello che è successo per queste incompetenze nel proteggere degli aerei così importanti un'altra cosa da notare poi è questo su 57 dipinto sull'apron come se questo bastasse a ingannare un satellite secondo voi dipingere un aereo a terra inganna un occhio esperto o un satellite ora senza girare il coltello nella piaga per giustificare in parte questo problema che espone gli aerei russi sugli aeroporti bisogna sempre dire che questo attacco è stato condotto a oltre 600 chilometri dal confine e che queste basi russe sono tutte uguali tutte mancano di infrastrutture si presentano storicamente così sono vecchi aeroporti e nient'altro distribuiti su un territorio enorme sono un retaggio della guerra fredda ecco come questo ce ne sono centinaia tutti uguali quindi l'unica cosa che mi viene in mente per gestificare l'assenza di shelter è un problema di organizzazione e logistico di fondi per modernizzare tutte queste superfici ma anche di un atteggiamento difensivo sbagliato tornando alle notizie abbiamo maggiori dettagli dell'attacco condotto sempre l'altro ieri in crimea il 10 giugno gli ucraini hanno preso di mira i maggiori sistemi mistilistici cittare a russi in queste posizioni che vi mostro gli bersagli erano i principali scudi mistilistici s 400 ed s 300 la russia non ha rilasciato nessuna dichiarazione di perdite a riguardo ma circolano video e tantissimi canali di analisi militare che parlano invece della distruzione di quattro lanciatori s 400 per quanto riguarda invece l'utilizzo degli f-16 da parte dell'aviazione ucraina ci sono due notizie che vorrei riportare la prima è che a quanto pare questi aerei saranno dislocati e decolleranno dalle basi nato la reazione a questa notizia da parte del governo russo dimostra quanto li abbia fatti infuriare affermando che questi aerei ovunque essi siano saranno dei bersagli legittimi in realtà questa cosa l'avevano detta anche l'anno scorso quando si parlava proprio della cessione degli f-16 ora come sappiamo fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare specialmente quando si parla di operazioni militari e di quello che significherebbe per la russia attaccare una base nato in un territorio che non è quello ucraino quindi queste dichiarazioni russe lasciano un po il tempo che trovano mentre se parliamo invece delle potenzialità e dell'operatività degli f-16 in ucraina è un argomento che fra l'altro ho già trattato due mesi fa bisogna essere un attimo più realistici c'è un video di ward carroll che è uno specialista rio in pensione di f-14 e che ha un canale proprio qui su youtube in una intervista justin brooke specialista presso i servizi riuniti britannici ha individuato alcune criticità riguardo l'utilizzo di f-16 perché l'inghilterra l'inghilterra in questi mesi sta operando apertamente in favore dell'ucraina e che non facendo più parte dell'europa diciamo che anche fuori dal marasma politico da tutto il dibattito è buon per lei fra le altre cose l'inghilterra sta seguendo attivamente la formazione dei piloti ucraini dalle sue parole in questa intervista sono emersi degli elementi molto interessanti proprio circa le capacità e le difficoltà che i piloti ucraini hanno nel fare il cosiddetto passaggio macchina macchina dal mig 29 e su 27 all'f-16 è un'intervista piuttosto lunga perciò la sintetizzo brevemente ci sono delle criticità della formazione dei piloti ucraini sull'f-16 allora come tutti sanno l'f-16 è un aeroplano estremamente valido ancora oggi sulla carta è perfettamente in grado di fronteggiare i caccia russi come su 27 su 35 che sono tutte macchine enormi da 20 tonnellate passa e che in un combattimento aereo moderno hanno dei limiti ma come dire ridurre il combattimento aereo a una questione tecnica e ad esempi calcistici è troppo riduttivo nella sua intervista justin brooke ha evidenziato che fino ad oggi in tutti gli addestramenti e i combattimenti simulati i piloti ucraini hanno sempre perso sia che volassero con i loro aerei quindi mig 29 su 27 che conoscevano molto bene sia nei voli sull'f-16 perso contro piloti della raf in addestramento ha detto proprio così in tutte le situazioni hanno dimostrato un pessimo rendimento questo risultato così scadente secondo lui è dovuto alla loro formazione principalmente di scuola russa che è molto diversa dall'approccio alla guerra aerea occidentale per capire cosa sto dicendo nell'idea del combattimento aereo moderno non esiste che un pilota ingaggi individualmente ma tutto il percorso di formazione una volta che si conosce bene l'aeroplano si concentra nel lavorare in coppia o in più coppie in questo modo quando la coppia si avvicina a una situazione di pericolo si adottano soluzioni che riducono al massimo il rischio di esporsi e massimizzano la capacità offensiva esistono delle tattiche basilari come certe separazioni nello spazio ma il concetto di base è che se voli in coppia non c'è nessun motivo per rischiare la pelle inutilmente quindi vi mostro un esempio per quello che in gergo si chiama shooter decoy che è proprio uno dei pilastri tattici in ambito nato se nella coppia uno dei due è più esposto farà da esca mentre creerà le opportunità al suo compagno di attaccare in sicurezza questo approccio poi moltiplicato per più coppie in un contesto pieno di logistica e awax e guida caccia può darci un'idea della complessità e della disciplina richiesta per massimizzare i risultati ed eliminare i rischi ed è questo il problema nella preparazione dei piloti ucraini che come ho detto provengono da una scuola al combattimento russo dove c'è un approccio molto rigido procedurale legato alle comunicazioni da terra dove ti dicono tutto quello che devi fare passo per passo dove il pilota attende continuamente conferme via radio per ogni azione che deve compiere il che non è necessariamente sbagliato in passato la guida caccia russa con i piloti di mi 21 nella prima guerra fredda ha ottenuto dei buoni risultati però il discorso cambia nella guerra moderna dove gli aerei hanno grandi strumenti per la consapevolezza situazionale strumenti più potenti come il datalink che non esiste nell'idea russa quindi è più complesso di così in un certo senso questo atteggiamento nella filosofia russa spersonalizza il pilota lo priva della facoltà di decidere per se stesso e in una logica di coppia prima di tutto lo prima della prima regola del combattimento aereo e anche la seconda realtà cioè la prima regola è la tua vita prima di tutto la seconda la vita dei tuoi compagni l'altro aspetto che è un poco agli antipodi rispetto alla disciplina nato e che piuttosto che lavorare in coppie e come una squadra nella filosofia del combattimento aereo russo si favoriscono i mucchi cioè le cosiddette furbo furbo dove ogni pilota agisce per conto suo in assenza di comunicazioni che lo guidano passo per passo quindi cosa è successo in questi addestramenti che i piloti ucraini hanno sempre perso e quando si sono trovati ai comandi dell'f16 nelle situazioni più critiche quando cioè bisognava prendere decisioni giuste in poche manciate di secondi la forza dell'abitudine ha prevalso e li ha fatti ritornare agli schemi precedenti e questo non è un problema da poco cioè questo lo posso confermare anch'io sulla mia pelle sulla base della mia esperienza in simulazione molto spesso infatti diciamo che è più facile insegnare le cose da zero a chi non sa nulla di combattimento aereo piuttosto che cambiare abitudini sbagliate e consolidate è così e quindi da una parte l'f16 è una macchina straordinaria che permetterebbe di fare attacchi al suolo molto efficaci e con i suoi am 120 di essere molto pericolosa e tenere a distanza l'aviazione russa ma questo discorso vale solo se l'f16 è pilotato con la giusta mentalità e il giusto approccio andando avanti dal fronte poi arrivano altre notizie quindi cercherò di essere breve continuano gli attacchi ucraini alle basi logistiche e centri di comando questo edificio è stato colpito l'altro ieri nell'area di titovka a sud di belgorod e alle spalle del fronte dove gli ucraini stanno cercando di riprendere vovincansk di cui fra l'altro ho parlato nel video precedente questo edificio prima della guerra era adibito ad hotel ma fino a ieri era utilizzato come base per gli ufficiali russi quindi ulteriore conferma che gli ucraini stanno continuando i loro attacchi nei punti strategici sui convogli e nei centri di comando per ridurre la pressione al fronte dai danni riportati dall'edificio è evidente che l'attacco è stato condotto con un grosso missile probabilmente uno storm shadow è piuttosto improbabile che nell'albergo oltre ai militari ci fossero turisti voglio dire chi è che programma le vacanze a tre chilometri dal fronte no in ogni caso i giornalisti russi si sono precipitati lì nelle ore successive inscenando una storiella che coinvolgeva civili che gli ucraini colpiscono gli hotel indiscriminatamente un fatto curioso è che poi questi reporter presa la macchina sulla via del ritorno sono finiti su una mina russa sono saltati per aria non ci sono state vittime ma alcuni sono in condizioni grave gravi continuano nel frattempo fra in russia e bielorussia stanno continuando le esercitazioni per l'uso delle armi nucleari tattiche con l'utilizzo anche di mig 35 una cosa importante da sottolineare che ho già espresso nei miei video precedenti è che il mig 35 stanno svolgendo esclusivamente il ruolo di lanciatori di missili kinjal nelle immagini che vediamo da fonte russa su questi aerei vengono addirittura rimossi i piloni alari questo perché i piloti questi piloni scusate offrono una resistenza aerodinamica e si vuole sfruttare al massimo la velocità dell'aeroplano per permettere ai kinjal migliori cittate e prestazioni è un piccolo dettaglio ma come ho detto questi aerei hanno smesso da tempo di fare il loro ruolo primario di intercettori molto tempo fa perché ormai in un contesto di guerra moderna sono obsoleti però fa specie che vengano caricati solo del missile kinjal e neanche due missili per l'autodifesa cioè una cosa che non si è mai vista in occidente quindi penultima notizia la nave admiral gorskov è arrivata a cuba con la sua scorta ed eventuali sottomarini diciamo che questo evento a ridosso del g7 fra l'altro nel frattempo vi mostro ancora la situazione nei cieli oggi con aerei elicotteri che stanno pattugliando l'aria in tempo reale questa visita di alcune navi russe a cuba è chiaramente una ripicca politica queste unità saranno tenute d'occhio molto attentamente dalla marina e dall'aviazione degli stati uniti e questo è quanto come sempre lasciatemi un mi piace iscrivetevi al canale tutto questo è fondamentale per tenere attivo e visibile il mio canale a proposito oltre ai video che mi avete chiesto e su cui sto lavorando vi comunico che sono in contatto con lo youtuber russo di inside russia ci stiamo scambiando delle email in cui gli ho proposto un'intervista per vedere la fattibilità di fare un live insieme e magari commentare insieme proprio queste tematiche sulla guerra visto che da alcuni commenti di noi italiani si capisce che alcune persone danno più retta a marco travaglio giuseppe conte e salvini e magari forse sarebbe più giusto sentire cosa ne pensano i veri russi i cittadini russi della guerra no che dite quindi restate sintonizzati per le prossime novità in arrivo come sempre un abbraccio alla prossima